Diciamo che la legge sull'edilizia pubblica e popolare che ha rivisto anche un po' le tariffe, stiamo cercando anche di modificarla, di emendarla rispetto al rincaro che c'è stato, anche se minimo, delle tariffe. Crediamo che sull'edilizia pubblica e popolare bisogna avere il coraggio di andare un po' più in là. A noi risulta, ed è una cosa che sto cercando di appurare, che abbiamo un 15 anni circa di assenza di interventi in termini di edilizia pubblica e popolare per la realizzazione di nuove case e per la ristrutturazione di vecchie case. Questo in un'amministrazione che è governata sempre dalla stessa forza politica in modo monocratico, direi da quasi più di 40 anni, diciamo è una mancanza importante. So che diverse decine di milioni erano destinate e finalizzate a questa edilizia pubblica e popolare e non sono mai stati utilizzati. Stiamo cercando di capire, ci è piaciuta la mossa recente, mi sembra, del Comune di Firenze in cui chiede di capire per esempio le strutture demaniali dismesse dallo Stato a favore dei Comuni di renderle attraverso un movimento democratico partecipato a disposizione di quello che si vuole fare. Chiaramente non siamo per l'aumento dei volumi scientificanti, si può pensare che queste strutture possano essere destinate in parte all'edilizia pubblica e popolare, in parte anche a un'edilizia residenziale. Parliamone e vediamo che cosa ci riesce a far fuori, perché l'emergenza abitativa è un problema enorme. Abbiamo 60 famiglie in difficoltà a Campi Bisenzio su cui si è fatta un'interrogazione. Quindi noi ci teniamo particolarmente.